Ufficializzata la nuova giunta dopo questo rimpasto, entrano tre nuovi assessori, tra questi c'è anche Caterina Provvisiero. Le deleghe verranno assegnate successivamente, ma insomma c'è già area di assessorato alla pubblica istruzione. Quanta emozione? Allora, l'emozione è tantissima. Una bella gratificazione. Ringrazio il sindaco per questa scelta. Spero di cuore di poter rispondere con il mio impegno, con la mia passione, sia per la città e sia per il mondo della scuola. Infatti io aspetterei, noi insegniamo il rispetto dei ruoli come insegnanti, come scuola, e quindi io aspetterei, prima di parlare di deleghe, le decisioni del sindaco. E poi vedremo che cosa mi sarà assegnato. Però io voglio dire che il mio impegno sarà veramente rivolto al bene di questa città, di questa città che ha bisogno veramente di un rilancio. Ma è anche il massimo rispetto per coloro che mi hanno preceduto, perché io ne sono certa. Comunque tutti hanno operato per il bene comune e hanno sicuramente messo in campo tutte le proprie competenze per poter realizzare degli obiettivi. Assessore, ormai possiamo chiamarla così. Se la delega dovesse essere quella l'istruzione, lei sa già che la scuola a Teramo sta vivendo un periodo veramente dei peggiori, insomma, dei secoli. Però non è solo la scuola che sta vivendo questo momento. Anzi, mi permetto di dire che la scuola ha dimostrato veramente grande coraggio, che la città è ripartita dalla scuola, perché è la scuola che rilancia la città. E quindi io sono certa che sì, bisogna fare molto, ma insieme al sindaco, insieme all'assessore, all'edilizia scolastica, dobbiamo ripartire da qua. Una cosa, io credo che la città non abbia bisogno né di polemiche, né di momenti di tensione. Oggi noi abbiamo bisogno di impegno e passione e di amore per la città.